Il cartello non tragga in inganno. Si disputano i campionati italiani di nuoto pinnato a Mondello, il Lido di Palermo. Alla gara internazionale hanno partecipato francesi, portoghesi e spagnoli. Hanno vinto a man bassa gli italiani, formidabili con le pinne sopra e sotto l'acqua, trionfando su tutte le distanze. Nei 200 Ruggero Ciacci ha preceduto in un primo 59 secondi e 8 decimi il connazionale Giusti, davanti ai francesi e ai portoghesi. Tanto per dire Ciacci è un ex nazionale che ha rivestito più volte la maglia azzurra, giocatore di palla nuoto in serie A, cacciatore subacqueo di fama.